Buonasera, apriamo la nostra pagina sportiva con il Bari che domani sera sotto i riflettori della San Nicola sfiderà il Vicenza di Gregucci in uno dei due anticipi della quarta giornata di ritorno di Serie B. Obiettivo dei bianco-rossi ovviamente è quello di riacciuffare la testa della classifica. Oggi c'è stata la conferenza stampa di Antonio Conte che nonostante l'assenza di Barreto è sembrato comunque calmo e determinato. Sentiamo. Il terreno del San Nicola diventerà domani arena della sfida tra l'eccese Antonio Conte e il tarantino Angelo Gregucci. Due dei tecnici più giovani del panorama calcistico italiano si affrontano nell'anticipo della quarta giornata di ritorno di Serie B. Abbiamo chiesto all'allenatore Salentino se oltre alla regione qualcos'altro lo accomuna al collega di San Giorgio Ionico. Tante partite contro in campione di Serie A, con il dubbio della Lazio e la Juve, quindi abbiamo giocato diverse volte contro. Sicuramente un ottimo giocatore, un difensore forte di testa e bravo anche con i piedi. In casa Bari non brillerà la stella Barreto, il legamento in via di guarigione. Vitor non avverte più dolore ma difficilmente lo si vedrà in campo sia contro il Vicenza che a Livorno. Peccato perché il brasiliano oltre ad essere uno dei bomber più prolifici dei caldetti è anche il portafortuna dei bianco-rossi insieme allo squalificato Parisi. Scaramanzia a parte, sembra che il giovane Lanzafame abbia smaltito l'infortunio. Ha fatto bene il riposo a Davide Lanzafame? Oggi ho fatto un allenamento di rifinitura, si è allenato con la squadra, ha ancora qualche problema quindi valuteremo bene la situazione. Possibile il suo impiego dal primo minuto? Vediamo, vediamo, deve essere certo che il ragazzo stia bene al 100%. Dunque Lanzafame potrebbe essere già dal primo minuto il compagno di reparto di Ciccio Caputo. Conte assicura che sia Kutuzov che Volpato stanno bene, potrebbero essere impiegati nel corso della gara. Il centrocampo dovrebbe essere lo stesso di Brescia, arriva a Seguberti sulle fasce, Donda e Gazze al centro. In difesa Masello riprenderà la posizione di centrale al fianco di Esposito, mentre Bianco e Bonomi agiranno sulle fasce. Fischio di inizio alle 21, in questa sfida tra pugliesi noi strizziamo l'occhio al Salentino col vizio della vittoria. E per la gara di domani sono stati venduti più di 6.000 biglietti, ma è una cifra che potrebbe salire dato che i botteghini resteranno aperti anche domani. La società invita i tifosi a recarsi allo stadio anzitempo per evitare lunghe code e contrattempi.